ultimo secondo il Bari. Subito Fabio Pietro Iusti. E' chiosa e malotta e torna a schierare Polenta con Romizzi e Joao Silva. Arbitro Leonardo Baracani della sezione di Firenze. In avvio è il Bari a prendere il controllo del gioco e al quattordicesimo sul filtrante di Sabelli, Schaudone manca il controllo della sfera facendosi anticipare da Di Gennaro. Il Cittadella stenta ad entrare in partita e al trentatresimo fedato ha uno spunto interessante ma il sinistro è debole. Al quarantesimo l'undici di casa potrebbe passare a sorpresa sul tiro ravvicinato di Coralli. Guarna compie un autentico prodigio mettendo la palla in calcio d'angolo. Il Bari replica dopo un minuto, un calcio di rigore in movimento per Joao Silva diventa un tiro telefonato e Di Gennaro intercetta. Allo scadere ospite ancora pericolosi con Galano che impegna Di Gennaro su calcio di punizione. Con il montaggio di Gianni Giuliani passiamo al secondo tempo. Subito pericoloso il Bari, Romizzi su punizione mette al centro, Di Gennaro respinge e Fedato manca il tapin decisivo. Al diciottesimo il Bari legittima la sua supremazia in campo, Fedato indovina il corridoio per la corrente Calderoni sinistro che non perdona. Cittadella 0, Bari 1. La formazione Veneta prova a scuotersi subito e al ventesimo Di Roberto entrato in area prova a sorprendere Guarna con un sinistro che termina sul fondo. I Granata ci riprovano al ventisesimo con Pecorini che si gira abilmente calciando sul secondo palo, nessun compagno è pronto alla deviazione. Il Cittadella spinge al trentanovesimo sull'asse la camera Perez appena entrati, proprio Perez calcia male da ottima posizione, palla alle stelle. In estremis nei cinque minuti abbondanti di recupero Perez si fa perdonare. Sulla sponda aerea di Gasparetto l'attaccante spedisce in rete la palla dell'1-1 polimizzando con i propri tifosi che lo avevano beccato nella precedente occasione. Finisce 1-1, un risultato che non serve a nessuno. Il Cittadella riprende per i capelli una partita praticamente persa. Il Bari deve fare mea culpa per non aver saputo proteggere il risultato migliore in campo, Fedato, del Bari. Finale al tombolato Cittadella-Bari 1-1 a Tefusco. Grazie Petro Iusti. Mario, che cosa significa essere raggiunti proprio all'ultimo secondo? È un peccato. Permettimi di dire una cosa, che è un suggerimento, non è una critica. Sabelli del Bari, invece di litigare con Coralli in area di rigore, in quel momento, in quella posizione del campo, deve stare attento alla palla e alla copertura. Si è fatto sfilare Perez alle spalle e ha preso gol. Adesso andiamo a vedere...